Ieri sera al Cinema Teatro Italia di Eboli, anteprima per i giornalisti dello spettacolo teatrale Carlo Levi a sud di Eboli. Questa sera alle ore 20 e 30 il comune con il sindaco Massimo Cariello presenterà la prima assoluta. Un viaggio teatrale, musicale e artistico nel meridione, che andrà poi in scena a Matera, capitale europea della cultura 2019. Abbiamo lavorato soprattutto per cercare l'antropologia vera del territorio del sud, del meridione. Quello che è rimasto di questa antropologia è una cultura altra, cultura vera, che un tempo era chiamata ignoranza, che adesso invece viene scoperta come appunto cultura antropologica. Siamo soddisfatti dei risultati soprattutto perché abbiamo messo in scena un'opera che è stata una grande scommessa, un'opera d'arte perché ci sono le sculture di Pasquale Ciao, le scenografie, c'è musica, c'è danza, musica del maestro Buonocore, c'è danza coreografata da Luca Calzorare. Questa regia associata è anche stata una scommessa perché abbiamo trovato una quadratura giusta e abbiamo compensato tutte quelle che potevano essere dei punti interrogativi e sono usciti fuori veramente delle gemme preziose, con le compagnie ebolitane, con grandi interpreti protagonisti come Fabio Mazzari che interpreta Carlo Levi, Anna Rita del Piano, la Lucania e Giordano Petri, Italo Colvino, ci sono tanti attori ebolitani, Michele Ferroresa, Angela Clemente, ma soprattutto le tre compagnie ebolitane, palcoscenico ebolitano, Bianconiglio ed Educar Teatrando. Quindi l'ambizione era già nella scommessa portare questo spettacolo a Eboli, ma soprattutto fuori da Eboli e anche in Canada e in America.